Ciao, benvenuti nel canale, se tu non sei iscritto al canale, iscriviti al canale per non perderti nessuna novità della più grande squadra d'Italia. Dopo un inizio d'anno turbolento, la Juventus sembra essere sulla strada giusta per contendersi un altro titolo della Serie A. Tuttavia, la Juventus è nota per partite in cui soffre molto, soprattutto dal punto di vista offensivo, e vince con una stretta margine. La Juve è costantemente una squadra solida in difesa, come caratteristica di Allegri, e tuttavia, ciò genera molte critiche da parte dei commentatori. Ma Andrea Barzagli ha una visione diversa sul lavoro di Massimiliano Allegri e lo stile difensivo del coach. Non dimentichiamoci mai di difendere il DNA italiano, perché lo scudetto, silenziosamente, è lì. La Juve non è bella da vedere, ma ha compattezza e forza. C'è molto di Max in questa rinascita, da Bremer a Rugani e Gatti. La Juve difende bene come squadra. Mentalmente, tutti, compresi i tifosi, preferiscono vincere 1-0 piuttosto che 4-3. L'ex difensore ha continuato. Non dobbiamo mai dimenticare il nostro DNA. Ci sono modi e mezzi per difendere, ma veniamo da una grande storia basata sul non subire gol. La Juventus di Allegri sta facendo scuola con il suo stile. La Juve difende bene, gli estremi stanno facendo la differenza. Sono compatti e bravi, anche perché sono imbattuti da 540 minuti, nonostante le assenze di Danilo e Alexandro. Ha concluso Andrea Barzagli. Preferisco una squadra più offensiva, ma senza dubbio deve esserci un equilibrio tra attacco e difesa. La Juve ha la miglior difesa della Serie A insieme all'Inter e la Juventus ha subito solo 6 gol in 11 partite. Tuttavia, l'attacco non è altrettanto efficiente, sono 17 gol in 11 partite, mentre l'Inter ne ha segnati 27.